I am Ellen, bentornati su Martin Phantasyland e bentornati finalmente in un nuovo episodio di luoghi fantasy tantissimi mi avete chiesto di rifare questa rubrica e oggi sono venuta a girarla in un posto incredibile forse uno dei luoghi più fantasy che abbiamo in Italia oggi vi ho portato nel cuore delle Dolomiti e questo posto dire che è uscito da una fiabba è dire poco non ci sono parole abbastanza efficaci per descrivere la magia di questo lago quindi ecco a voi il lago di Braies grazie a tutti come vi stavo spiegando nell'introduzione ci troviamo nelle Dolomiti proprio nel cuore delle Dolomiti in Val Pusteria che è l'ultima valle al confine con l'Austria siamo nella zona di Brunico all'interno del parco naturale che prende il nome di Fanes Sennes Braies proprio in onore di questo magnifico lago che vi sto raccontando oggi il lago si trova a 1500 metri a chiudere la strada della valle di Braies e da qua partono tantissimi sentieri e tantissime camminate ma il velo protagonista è proprio questo lago qui soprattutto per due motivi il colore magnifico delle sue acque che potrete vedere soprattutto in una giornata come questa che è un po' grigia e un po' di pioggia e l'acqua diventa veramente blu e turchese è un colore incredibile il secondo motivo sono le magnifiche montagne tra cui è incastonato il lago di Braies che tra proposito in tedesco si chiama Praxervilsä non penso di averlo pronunciato bene però fatemelo passare lo stesso la montagna più imponente è quella che voi adesso vedete qua dietro completamente incorniciata dalle nubi si chiama Croda del Becco ed è alta quasi 3000 metri 2800 per la precisione e nelle giornate di calma piatta come questa oppure all'alba quando ancora non si è alzato il minimo vento la montagna si riflette perfettamente nelle acque del lago creando uno specchio quasi incantato il lago con i suoi 37 metri di profondità è il più profondo della provincia di Bolzano e per chi non ha voglia di avventurarsi in camminate troppo faticose o troppo lunghe ha un bellissimo sentiero che ne percorre tutto quanto il perimetro il sentiero è molto bello passa in mezzo al bosco e sulle rive del lago e la cosa fantastica è che da ogni angolazione vedete questo posto cambierà il colore e cambieranno le sensazioni che vi trasmette inoltre un'altra cosa molto divertente da fare su questo lago è prendere una delle barchette in legno se avete visto qualche foto di questo posto avrete notato sicuramente una bellissima palafitta che è proprio all'ingresso del lago ebbene quella palafitta è proprio un punto di noleggio barche è aperta la stagione estiva soprattutto più o meno dalle 9 di mattina fino a circa le 4-5 di pomeriggio e con un affitto che può essere di mezz'ora o di un'ora si può prendere questa stupenda barchetta di legno e navigare il lago e quindi vederlo dall'acqua che sicuramente è un'esperienza ancora più magica ovviamente non potevo informarmi sulle leggende e le storie di questo posto perché dovete sapere che le Dolomiti sono letteralmente piene di storie magiche e di leggende incantate ce n'è una particolarmente bella che riguarda proprio il lago di Braies ed è tutta legata al nome originale della montagna che vi ho detto prima infatti il nome originale è Sassdla Porta proprio questo termine porta ci collega alla leggenda che vi sto per raccontare che è la leggenda del regno dei Fanes i Fanes, secondo quello che viene tramandato era un antichissimo popolo che dominava le valli delle Dolomiti erano veramente un popolo molto potente e la regina dei Fanes era alleata con la regina delle Marmotte quando questa regina nacquero due figlie gemelle una venne affidata alle Marmotte che quindi la tennero nel loro regno al sicuro e nascosto la seconda invece divenne un'abilissima e famosissima guerriera questa ragazza però si innamorò di un re straniero che alla fine portò alla distruzione del regno dei Fanes e quindi la loro dinastia cadde rovinosamente e rimase pochissimo, pochissimi sopravvissuti del loro popolo e fu qui che intervenne la sorella che aveva vissuto sempre con il re e la regina delle Marmotte loro crearono un passaggio o una porta come dice la montagna proprio qui nel lago di Braies e andarono a salvare tutti quanti i superstiti dell'ultima sanguinosissima battaglia che sconfisse i Fanes li portarono con una di queste barche in un'entrata nascosta che si dice sia appunto su questa montagna quindi il sas della porta o addirittura sul fondo del lago e portarono in salvo quello che rimaneva del regno dei Fanes salvando così quel che rimaneva della loro dinastia e sparendo per sempre dalle lali delle Dolomiti ma la leggenda racconta che una volta l'anno è ancora possibile ammirare tra le nebbie del lago la leggendaria principessa dei Fanes che accompagnata dai sovrani delle Marmotte con la sua barca di legno naviga le acque del lago apre la porta che nasconde il regno dei Fanes e viene qui ad aspettare il suonare delle trombe d'argento che sarà il segnale secondo cui il regno dei Fanes potrà risorgere e uscire dal suo isolamento chissà, magari sarà proprio uno di voi su una delle barchette di legno che vi ho suggerito prima che navigando il lago troverà l'accesso nascosto al misterioso e antico Regno dei Fanes Mellin, come vedete ha iniziato a piovere fittissimo le montagne sono letteralmente sparite però questo posto con questo tempo forse è ancora più bello e incantato e sono davvero felicissima di avervi portato con me oggi in questo che è uno dei miei posti preferiti al mondo grazie mille di aver seguito questo video se volete continuare a seguire le mie avventure non dovete fare altro che iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche così non perderete neanche uno dei miei video vi mando un grande bacio dal lago di Braies e fino al prossimo video da Mari